sconvolti e spaventati dalla morte della loro assistente i ragazzi arrivano dove? a casa del biochimico e qui dà fastidio perché continuano ste cazzo di coincidenze non solo ovunque vadano si ritrovano l'uomo ratto davanti che fa qualcosa adesso tra tante case in uno stato intero dove vanno a finire? alla casa del biochimico allora lo fate apposta allora lo sapete, ci andate apposta cioè questa è la sensazione comunque il biochimico li fa entrare e così parlottando con i due a un certo punto capisce che c'è qualcosa che non va capisce che la sua creatura è entrata in contatto con loro capisce che è in giro a far danni e non è solo in giro a far danni è rientrato proprio in casa quindi è tornato a casa sua questa creatura ed è in giro per la casa del biochimico invece di dire ragazzi andatevene via non posso ospitarvi andate via così lui può recuperare la creatura ed evitare una denuncia e evitare che loro capiscano che è sua responsabilità quella creatura che dice rimanete a dormire qua cioè non c'ha senso quelli ti denunciano ti mandano in galera dormite qua vabbè segnalo però per i più maialazzi di voi la scena della doccia qui c'è la scena della doccia in cui Eva Grimaldi è completamente nuda vabbè c'è queste scene un po' pornazze sapete in cui i film si usavano tantissimo ma non la segnalo per dirvi insomma guardate è un bel pezzo di figa no ve la segnalo perché l'audio di questa scena è è estremamente merdoso cioè allora vi faccio vedere la scena però vi tolgo il video e vi faccio sentire solo l'audio che starà mai facendo sotto la doccia che starà mai facendo perché fa questi versi così provocanti si sta lavando non sta facendo niente cioè hanno preso la doppiatrice l'hanno messa in una stanza buia hanno fatto guarda fai finta che doppi un porno e lei sì ma mi fate vedere almeno no 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 fidati fai finta che doppi un porno vai a ruota libera a questo punto c'è la scena notturna i nostri eroi dormono in camere separate e in camera di lei entra quest'uomo topo lei all'inizio non se ne accorge perché sta dormendo poi si sveglia sente un rumore l'uomo topo è su un armadio a un certo punto l'uomo topo la aggredisce lei riesce a scappare riesce ad entrare in camera del fotografo e lo trova affettato come un san daniele là in mezzo alle lenzuola perché l'uomo topo a quanto pare è già passato lì ha fatto il suo lavoro e poi è andato dalla modella quindi rimane soltanto lei il il biochimico e l'aiutante del biochimico l'aiutante del biochimico viene ammazzato neanche a dirlo mentre cerca di recuperare questo esserino a questo punto rimangono la ragazza e il biochimico che non si sa come se ne stanno lì in una stanza a parlottare mentre per la casa è libero quest'essere cioè è vero che io il film ragazzi l'ho visto in maniera molto frettolosa cioè l'ho visto così aspettando che finisse perché non ce la facevo più però non mi spiego cioè forse c'è un passaggio non lo so magari l'ho perso io però questi qua se ne stanno in questa stanza tranquilli e sicuri forse perché hanno chiuso la porta questo uomo ratto può teletrasportarsi a quanto pare ma una porta lo ferma vabbè stanno lì a parlare che cosa scatta scatta la cosa peggiore che può scattare in un momento di tensione come questo il pippone e quindi ti becchi sto tizio che fa no è intelligente così è più intelligente della scimmia meno astuto del ratto ha le dimensioni del pene del ratto ma la cosa ti rompe i coglioni insomma con questa storia quando l'unica cosa che lo spettatore a questo punto vorrebbe sapere innanzitutto è quando finisce il film e poi se riusciranno a salvarsi e finalmente quando i nostri testicoli sono ridotti a una sorta di poltiglia nauseabonda il film si decide a finire praticamente la ragazza e il biochimico decidono di andare alla polizia questa geniale idea che deve venire a lei perché lui non ci arriva andiamo alla polizia vanno alla polizia salgono in macchina a un certo punto il biochimico fa ops mi sono dimenticato gli appunti vado un secondo a casa a prenderli torna a casa e viene ammazzato a questo punto a questo punto io dovrei rivelarvi il finale ma non lo voglio fare perché onestamente sono mesi che va avanti così cioè io guardo il film soffro come una bestia perché sono film di merda quelli che vi racconto e poi vengo qui voi vi fate un mucchio di risate ah 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 guarda che film di merda però voi non l'avete visto allora se volete sapere il finale di questo porcaccia Eva lo andate a vedere perché altrimenti qua sono l'unico che soffre e non è giusto e a proposito Davide Davide Arturo che mi ha consigliato questo film mi manda i messaggini sai vai a vedere una villa in fondo al parco vai vai facci magari anche una recensione Davide io ho buttato un'ora e mezza della mia vita a vedere questa merda quindi questo grazie che ti dico è un vaffanculo velato e non è proprio un grazie 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 leggici leggici la parola giusta allora ragazzi a parte gli scherzi accetto consigli da da chiunque e se insieme al film che mi consigliate da recensire mi date anche il modo il link quello che vi pare per poterlo raggiungere mi fate un grosso favore perché molti film che voi mi avete consigliato io non sono riuscito a trovarli ecco perché non faccio le recensioni di tutto di questo qui l'ho potuto fare perché c'era il film integrale su youtube però magari altri film che mi avete consigliato non sono riuscito a trovarli quindi magari datemi anche le coordinate per trovare questi gioielli perché altrimenti non vorrei deludervi ma non li trovo ok allora ragazzi alla prossima puntata che spero non sia un altro film horror brutto come questo eh Davide ciao a tutti alla prossima